Burlani bentornati in questo nuovo video, oggi siamo con Kendal, ciao campione, oggi siamo qui per lodare Kendal, questa è la statua di Kendal, oh scusa No ero incredibile, ti stiamo lodando mio Kendal, eccoci qua, sì mio discepolo Oggi facciamo cosa che a te piacerà un sacco, dovremo hackerare in una gara di scavo, oh non hackero solo io, non baro solo io, bariamo tutti Non ho mai hackerato però, non ho mai barato, oggi hackeriamo, allora vieni qua, qua abbiamo hack 1, hack 2, hack 3, hack 4 e hack 5 Io non so in che disposizioni saranno nascoste le hack perché in questo mondo ci sono 4 hack, ok, e se noi cliccheremo uno di questi cartelli ci darà il crafting per creare questa hack specifica Scusa come 4, sono 5 qua, eh ma ce n'è una vuota quindi uno di noi probabilmente Quindi uno è farlocca E uno è farlocca, ok allora vado intuito, scelgo il mio numero preferito Il 4, ok, cosa ti è uscito? Ok, quello dovrebbe essere il 5 per 5, giusto? Il 5 per 5, yes E quello è il crafting che ovviamente dovrai craftare, cioè non è che te la dà subito, devi craftartela tu Ok, ma è forte no? Ok, è una di quelle medie diciamo Io vado nel, vado nel 2 dai, tu hai fatto il 4 e vado nel 2 Wow, crafting x-ray, questo è potentissimo, questo è uno delle due potenti Questo è uno delle due potenti, ok E come noti, guardami bene, lo vedi il crafting? Sì, più o meno Ci sono dei minerali che non esistono su Minecraft Perché abbiamo aggiunto anche dei nuovi minerali Ok Troppa roba, troppa roba Troppa roba Vai, sta a te, sta a te Beh, allora direi che vado con il 5 Ok, 5 Crafting laser Oddio, quella è la più forte di tutti Veramente? Sì, è fortissima, quella ti fa un laser che ti spara tutto, è potentissimo Ok Porca miseria Vado di 1 o di 3? Una di queste due è vuota, oddio Quale scelgo? Vai, dimmi 1 o 3? Io faccio in te sceglierei 3 E allora scelgo l'1 dai, perché se no mi parti della casa Lo sapevo Oddio, 1, 1, 1, è stato il mio numero a calcio Sotto 1 Sotto 1 non c'è nulla Ok L'hai trovato? Crafting teletrasporto diamanti Ok, questa è abbastanza, è un po' come la tua E questa qui Sotto 3 non c'è nulla Vediamo, proviamo Questa ha che non funziona Questa ha che non funziona Oddio, siamo stati fortunatissimi Eh sì, è vero Raga, non ce la siamo preparata, ve lo giuro Va bene, prendiamoci il kit base Abbiamo tutto qua dentro Sei pronto per iniziare? Sì, c'è la keep in vento È tosta, eh Non lo so, però intanto la mettiamo così per sicurezza In teoria c'è già, però non la mettiamo Prontissimi, è iniziata 16 minuti Ok, io vado direttamente Guarda, la vedo già del lava coal Che non è male come cosa Sì, è il lava coal Eh, sono tutti minerali nuovi che sono strabbero Ho già 30 punti, eh Ma che vuoi? Ho già trovato una caverna Anch'io 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 Credo sia questo il lava coal, non lo so È quello rosso Aiutopi Sono i nostri Io li avevo lasciati a posto Dai, va bene Facciamo un bel difficulty peaceful Solo perché oggi dobbiamo usare le hack Io nel frattempo sono a 400, 500 punti Io ho trovato il lapis Ho trovato il lapis Quello verde Io ho trovato la mineshaft E ho trovato il sulfur redstone Bellissimo, ragazzi A me piacciono un botto questi minerali Questi che sono i minerali di marcipalla Non so se lo sapevi Adesso lo sai Non lo sapevo Sono i minerali di marcipalla E mo lo sai E mo lo sai Oh, però stai andando troppo avanti Basta, eh Siamo trovando un sacco di minerali bellissimi Solo che io vorrei quello delle hack Quindi vorrei dei diamanti Il lunar E vorrei anche quest'altro Che dovrebbe essere quello rainbow Dovrebbe essere quello rainbow Scusami Il piccone Io posso usare quello che ho già io Per il crafting O devo farne un altro No, devi farne un altro Perché sennò come fai Allora Questo è super un breakable Ok, grande che me l'hai detto Mi inizio a prendere la legna Dalla mineshaft Ok Ho trovato il lunar gold Ho trovato il lunar gold Che bello Che bello Che bello Prendo il ferro normale Faccio punti Sì, poi fai punti con tutto tutto Ah, tutto 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 Solo sì Che questi nuovi minerali Ti danno un pochettino più di punti Giustamente Bella come cosa Secondo me Cioè, bavo bella Bavo bella A me piacciono queste gare comunque Sì, anche a me Le gare di scavo Va bene Allora, facciamo No, non lo dico Non lo dico Perché sennò poi No, lo dico io 8000 mi piace Subito Nelle prime 24 ore 8000 mi piace Vabbè, 8000 mi piace Cosa facciamo? Dai, facciamo un video Ti invito in un video E facciamo una gara di scavo Per mezz'ora, dai Invece che 15 Facciamo il dopo Ok, va bene Va bene, va bene Ma sei a 11.000 punti Sì, ho trovato Quegli arcobaino Che mi servono per il crafting Sì, sì, sì A che profondità le trovate? Sono ad altezza 14 in questo momento Però io non ho i diamanti Che sono la cosa più importante Eh, ma ora li trovi Eh, guarda che i diamanti Sono la cosa più rara di questo Di questo Ma come fai a essere solo a 2900? Eh, perché io sono ancora su in alto Impegnati Oh mio Dio Ho trovato i diamanti Vai in basso Ho trovato quello che ti piace a te Diamanti Cosa ho trovato? Il Lunar Il Robo, sì, quello P Bello Eh, ho trovato solo tre diamanti Io A me ne servono troppi Io appena trovo i diamanti Crafto il laser Quello là, assurdo Allora, io ho tutto per fare le hack Lunar Gold Ma mi mancano proprio i diamanti C'è assurda questa cosa Se ci pensi Eh, mio caro Non sono facili da trovare Aspetta, funziona quella cosa Della Z negativa? La Z negativa era di qua, quindi Quale è la cosa Della Z negativa? Nella 1.17 Se tu scavi A Z negativa Da dove trovi i lapislazzuli Puoi trovare I diamanti Però funzionano solo se Questo uomo le sa troppe Eh, le so tutte Le so tutte Sono troppo forte Cavolo, sono troppo forte 16.000 No, mi servono i diamanti Non voglio prendere questi qua Voglio i diamanti Dai, stupida Statevi i diamanti Quanti te ne servono di diamanti A te, per curiosità Per craftare le varie cose Un botto Mi servono letteralmente Tre blocchi di diamante Per craftare un hack Porca miseria Tre blocchi Oh, blocco arcobaleno Che cos'è? È quello che serve per i crafting Però mi sa che tu non ne hai No, io no Eh, no Io sto cercando Sto cercando di diamanti Sto cercando di diamanti Sono a livello 12 Porca miseria Mamma mia Quanta roba qua Guarda che mi stai raggiungendo È che stai arrivando Prima non eravamo a così tanto Così poco a distanza Insomma Eh, ma perché io stavo scavando sopra Tu invece eri già sceso giù Sì, è vero Giù c'è più roba Anche questo Dai, 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 dai No, no, no Quanto sta a fare quello lì? Quello lì potrebbe Mi sa che Mi sa che faccio prima Quello che mi trova i diamanti Quindi L'X-ray L'X-ray Sì, non l'X-ray Come si dice Non ti leggo del pensiero Quello di Teletrasportarmi verso i diamanti E poi faccio l'altra Così poi posso trovare Giustamente i diamanti Però diamanti E tu hai quel luck lì? Sì, ma non è Guarda che non è forte Ah no Mi teletrasporto davanti ai diamanti Credimi Con tutto il cuore Che il laser È l'hack Mai Più più forte Mai generato in questo canale E il laser è quello che ho io? Sì, l'hai trovato tu L'hai trovato Eh sì, ho capito Ma come faccio a fare tre blocchi di diamanti In dieci minuti? Puoi farlo Puoi farlo Guarda, facciamo una cosa Io ti do un effetto Guarda Effet give Non lo do a me Lo do solo a colui che osserva Ace Per 500 secondi A livello 20 Vai Oh mio Dio Oh mio Dio Vai Per quanti secondi me l'hai dato? Scusa? Per tutto il tempo 500 secondi Ma sei matto? Perché? Così Perché voglio vedere Poi al massimo Massimo me ne do un altro io Va bene, va bene Così provi là No, pensavo fossero diamanti Mannaggia Porca miseria Porca miseria Che ti raggiungo ora con questo effetto Però sai che prendo meno punti per qualche motivo? No, non li prendi meno Devi stare attento a prendere tutto È che te li conta con calma Cavolo, sei già 11.000 No, no 11.000 Ah, li devo raccogliere anche Eh sì No, no, no Ok, ok Stai volando Forse è stato un po' avventato quello che ho voluto fare Però va bene Eh, ormai non si può togliere Mi dispiace Non si può togliere Magari me lo darò anch'io più in là Ma adesso ci voglio provare Voglio trovare dei diamanti legittimamente Me ne servono tre Me ne servono Non è così tanto Io sono a propria di tal diamanti Dovrei trovarle adesso Datemi tre diamanti Non sono i diamanti Diamine o ti giuro Veramente è pazzesca sta situazione Però ci togliamo comunque Sempre di 10, eh 10.000 Eh, perché sto Sto tryhardando Posso ammettere che sto tryhardando E non lo immagino Oh mio Dio Marci Cos'hai trovato? No, guarda i miei punti Guardi tu Come hai fatto a farne così Diamanti Diamanti Non ci posso creder Sirei trovati Non è vero Non è diamanti colorati Ok, ho trovato una caverna Bella questa caverna Non ci credo che l'ho trovato Quello che mi serviva Il mineshaft Quindi siamo vicini Ma il mineshaft Io guarda che l'ho trovato all'inizio Eh, ho capito Io l'ho trovato adesso Perché l'ho trovato dall'altra parte Ma a me quel mineshaft serve Perché mi serve per fare il legno Ok, ok Oh, io ti dico che ho trovato i diamanti Ne ho 4 Ma come 4? Ma come 4? Meno di più di 4 Come 4? Io non so Ne ho 6 giusti Io ne ho 6 giusti No, no, non ci faccio nulla Ah, sai cosa? Posso fare il 5x5? Puoi fare il 5x5 Che è veramente OP quello pure È veramente OP Ok Riesco a craftarmi la prima hack Mi sa adesso Allora, facciamo così Tutto sono 5 pezzi Che fortuna Il mineshaft Porca miseria Ok Così Ok, ci sono anch'io Inizio 1 e 2 Boom Spettacolo Andiamo un po' come si crafta Ok, questo si crafta Con questi qua E quelli verdi Quindi verdi così Marcio, ho paura per te Perché? Ma come funziona il 5x5? Eh, ti scava un 5x5 Se te lo metti No, con Ace non va Ah, non va Eh, perché sei già super OP Eh, perché sono già OP Mi togli Ace allora Veramente? Te lo tolgo? Sì Oh, scava 5x5 Ok, tolto Allora Io qui ho l'hack teletrasporto Mamma mia ragazzi Mamma mia Ah, ma c'è il cooldown Cosa? C'è il cooldown Per utilizzare l'altetrasporto Di diamanti Ma no Ma io speravo fosse tipo Diretto Ma mi hai tipo Meno male Oh Ma io sono 61.000 Ma com'è possibile? Come cavolo ha fatto? No, vabbè, dai Non è possibile Non ci voglio credere Non ci voglio veramente credere Non ci voglio credere No, io non ci voglio credere Non ci voglio Oh, ma qua Qua hai già scavato Non ci voglio credere Eh, perché magari c'è stato io No, no Era tipo Era tipo un buco di 4x4 Questo è OP, eh Questo è OP, eh Io devo arrivare al laser Eh, il laser Eh, mi sa che stavolta mi batti Porca miseria Eh, ma non lo so se ci arrivo Ho i piedini super OP Io Ce li ho Non lo so se ci arrivo Sono 80.000 Ok Guarda che il 5x5 Non va sottovalutato, eh No, dici? No, è forte È forte Guarda quanti ne ho Guarda quanti ne ho Oh, sto trovando roba super OP, eh Sto trovando roba super OP Porca miseria Se è super OP questa cosa Dai, dai, dai Porca miseria No, questa roba è super OP, raga Mamma mia, guarda i miei punti come salgono Il 5x5 è veramente fortissimo Porca miseria No, però devo svuotare l'inventario, cavolo Io devo ricordarmi che ho anche questi qua Che sono veramente, veramente forti Ok 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 Ho trovato un'altra mineshaft Mi sa che siamo vicini Sì, dici Eh, può essere Può essere, può essere, sì Può essere di gran lunga Ti prego, dimmi che sono diamanti No, no, no Dai, dai Ok, se non ho dritto Devo andare dritto Diamanti Ok Ma come diamanti? Ma come diamanti? Sì, sì, dai 55.000 Ma sei troppo forte per me Sei troppo forte per me No, è impossibile Non ti riesco a raggiungere Sei tu il re delle gare di scavo Eh, lo so Però stavolta non ti riesco a raggiungere Andiamo Sono messo peggio di quello che pensavo Ok Sto cercando di salire in qualche modo Però sta mineshaft è scomoda 6 minuti 6 minuti 6 minuti Questi sono fortissimi Questi qua sono veramente forti Ok Io ti dico Cioè Scavare tipo il coal Il ferro Con il 5x5 È una cosa O piti Da tanti punti Sì Ah, guarda lì Sono a 90.000 Sei a 90.000 Ok, però io sto trovando roba bella adesso Adesso sto trovando veramente roba bella Ok Guarda tutto Call scavo Cioè ogni call che scavo Sono tipo mille punti Porca miseria È perché li scrivi tutti di fila Giustamente Sì e poi sono tipo in blocchi da 8 Da 9 Grande Dai ancora Va bene va bene va bene va bene Ce la sto per fare Ce la sto per fare Devo raggiungere 92.000 Ma come è possibile? Ma come? Intanto però guarda Non mi ha tipato i diamanti Però ho trovato Ho trovato questo Non male Non male Non male Non male Ho un'idea Ho un'idea Nell'inventario Basta scavarli e basta Eh sì Quello sicuramente sì Solo che con haste Andava troppo veloce Non mi dava il tempo di caricarli Ok Dai Diamanti normali Ho trovato senza neanche usare Il ciclo di cercatore Sto piccolo e sporca Ok Mi ha tipato di nuovo qua Ok Io sono messo malissimo Ma non è vero Sei a 72.000 Sì ma non ti riesco a raggiungere Assurda questa cosa Ho capito Ma appena arrivi Da farti un altro hack Mi distruggi No io ce l'ho tutte e due hack Ah ce l'hai tutti? Sì sì Ma non funzionano bene con me Sono scarso Sono scarso Sono diventato scarso Dai grande 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 Non me lo dici a me sinceramente Scusami Io c'ho 13 diamanti Però non ci faccio nulla Mi servono 3 blocchi di diamante Porca miseria Avrei sentito trovare la mia hack Quella lì che permetteva di Quella sarebbe stata una combo Sto arrivando eh Sto arrivando I'm arriving Sono al 100.000 I'm arriving 86 È all'ultimo sangue questa cosa Porca miseria Sì è veramente veramente all'ultimo sangue Dai 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 Ok Non sto trovando interessante Dove buttare un po' di roba Eh io mi sono incastrato Oh quanta roba Oddio guarda cosa ho fatto Andare su ho fatto benissimo Perché? Sono un sacco di quelli arcobaleno 86.000 89.000 Danno più molti gli arcobaleno? Eh sono belli gli arcobaleno Sì Ok Ce ne sono altri che avevo lasciato prima 108.000 No mi stai raggiungendo Ma come non è vero che ti sono raggiungendo Sono 88 E guarda che prima ero a 16.000 di differenza Adesso sono a 20.000 Porca miseria Eh ma l'h migliore c'hai tu Guarda che appena fa il laser Appena fa il laser sei a cavallo Allora dopo appena finisce la sfida Voglio provare il laser Lo facciamo in creativa Va bene Sì 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 Non riesci a trovarlo dici? No Perché c'ho solo 13 diamanti Sono rarissimi Effettivamente i diamanti sono abbastanza rari Anche ci ho messo un botto a trovarli Quanti ne hai tu? 103.000 Ti sto raggiungendo 103.000 diamanti? No di diamanti ne ho usati tutti Adesso ne ho 21 Ok ok Oh mio dio mi raggiungi sì Mi raggiunge come? Eh perché questa qui è figa È proprio bella Dai 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 Scava scava Devo andare velocissimo Devo andare velocissimo E andare più avanti possibile 105 contro 112 Dai 107 112 Che ho trovato quelli che ho valuto 113 Sì 115 Oddio mi hai superato Oddio non ci posso credere È stato un investimento incredibile Quest'hack È stato un investimento incredibile È al cardioparma È al cardioparma Dai 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 119 Carbone Ferro Sì Sì I lapis colorati Mi piacciono Li voglio Che è lunar gold Mamma mia ragazzi Che sfida Che rimonta Che sfida Rimonta pazzesca È perché ho capito bene Quelle che vale la pena prendere Secondo me Ma io li prendo tutti e basta Quello che trovo Io sto prendendo un sacco I diamanti corrotti Sembra che valgano di più degli altri Sembra che valgano tipo mille Non riesco capire Quali? Quelli che non si Forse sono questi Quelli che sembrano tipo nederite blu No gli altri Quelli che sono Non so come spiegarte Carcobaleno No gli altri ancora Ok ho capito Mamma mia quanto valgono Guarda Porca mi sto trovando Mi hai superato No mi hai superato Non ci credo Valgono tipo 10.000 all'uno No 10.000 non penso proprio Io ero a 120.000 Ora sono a 133 Stai trovando un botto di roba Ok ecco è questo qua sotto No non sono questi qua Mannaggia Sono quelli che sembrano buggati Sì esatto Sono quelli che sembrano buggati Mi hai superato Ma come hai fatto Un minuto e vento Porca miseria Ma si possono fare queste sfide così Al cardiopalmo Io non lo so Sto morendo Sto morendo Sto morendo Dai 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 Carbone Bene Ok ho trovato di nuovo quelli Arlecchino Arlecchino Bene 138.000 Il lava call non dà nulla È inutile 139 Ok Ok No Mamma mia Siamo a mille di differenza Non ci posso credere Non ci posso È assurdo Ok ho trovato una caverna La caverna è OP come cosa È assurdo Ok 50 secondi Dammi quei diamanti Sì non ho trovati altri Non ho trovati altri Non ci credo Io non ce la faccio Non riesco a farmi la track Non riesci a farti la track Ok È meglio così 146.000 Eh sì per me ovviamente No per me 146 no Ok 30 secondi Devo trovare altro diamante Quello corrotto Altro diamante corrotto Marci Ce la puoi fare Sì lo trovo ancora Lo trovo ancora Lo trovo ancora Non fare un ponte No Ok Non ci credo 151 Ah Oh mio dio Dai 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 20 secondi Ci siamo Ce la puoi fare Ce la puoi fare Se li trovi ce la puoi fare No non li trovo Non ci sono Non li vedo Però c'è tanta altra roba qua Io sto trovando un sacco di lava Purtroppo Mannaggia la lava Mannaggia Mannaggia la lava Mannaggia 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 la lava 151 Io mi butto Frega un cavolo Se perdo vita Guarda io vado Vado lì a prendere questi qua Questi cose qua 3 secondi 151 Sì Non ci credo Oh mio dio Non ci credo Di mille Porca Guarda quella che avevo io di hack Dove sei? Guarda sotto di te Oh porca miseria Mamma mia Non ci credo Comunque È stato assurdo Io ragazzi Vi saluto Se volete un'altra sfida di scavo Ditemelo sotto nei commenti Dobbiamo raggiungere 10.000 mi piace Facciamo un episodio di mezz'ora Abbiamo promesso Mi raccomando Ciao a tutti Ciao Ciao